Commentiamo con Mr. Salvi questa partita, una partita di quelle difficili, una squadra alla vostra che gioca, raccoglie complimenti naturalmente per il gioco che è stato fatto nel corso di giorni di ritorno, anche nell'ultima partita, contro un avversario che non ha commesso errori e quindi è riuscito ad imbrigliarvi per tutta la partita. Sì, la nostra squadra ha fatto tutto quello che poteva e aveva nelle corde oggi. Non siamo stati fortunati in alcuni episodi perché i ragazzi mi dicono che è calcio di rigore a metà del tempo. E poi ma anche i due pali, uno esterno, però insomma abbiamo incontrato un avversario che viene da... Questo è l'ottavo risultato utile consecutivo che fa e non subisce gol. Quindi bisogna fare queste considerazioni in un momento delicato del campionato. Ci vuole pazienza, ci vuole calma, lucidità per portare in porto la barca, come dice il signor Alfredo. Cerchiamo di farcela, ce la stiamo mettendo tutta, dobbiamo soffrire anche giovedì dove incontriamo una squadra dove sono tornati i giocatori, dove comunque è una squadra che si è rimessa in pista, è il Pavia. Andiamo a Pavia però per cercare di portare a casa il risultato che chiude questo benedetto campionato. Il Classe ha dimostrato che il catenazio in Italia non è ancora morto. No, vabbè, ognuno... io credo che al Classe vadano fatti i complimenti anche all'Agnatore perché credo che stiano vivendo una stagione difficile per cui voglio dire ognuno poi usa i mezzi che crede. Comunque secondo me hanno fatto anche qualche buona ripartenza, un gruppo giovane che ci ha dato anche un po' di fastidio. Non ci dimentichiamo che ha vinto col Modena, ha pareggiato con la Pergolettese, ha pareggiato col Carpanetto e poi non mi ricordo le altre, però insomma è una squadra che viene da un periodo positivo, non bisogna dimenticarlo. Lei ha in campo un centrocampo di grande qualità, Boccalari, Terzoni recuperato, Zagnoni, veramente un centrocampo che sa giocare la palla, la tiene sempre bassa, Roma ha supporto dei attaccanti, quindi lei ha cercato naturalmente di far vedere che l'entigione vuole e sa giocare. No, no, abbiamo scelto di giocare un pochino più sulla qualità perché Boccalari e Terzoni ci possono dare quello, Marco Roma che è incomiabile per come corre, per come affronta gli avversari ogni domenica così come Zagnoni e abbiamo fatto questa scelta giocando con i ragazzi giovani dietro, però insomma la squadra per me oggi ha fatto bene come veniva da una buona settimana, ci vuole pazienza, è un anno di grande difficoltà, ci vuole caldo. L'impressione è che se riusciate a far godare all'inizio forse le cose erano meglio, andavano meglio senz'altro. Non lo so questo, gli episodi non abbiamo avuto una gran fortuna, poi però la fortuna bisogna andarsela a cercare, io oggi devo fare i complimenti alla mia squadra e ai ragazzi. In vista delle ultime partite la salvezza è quasi raggiunta, rammarico si poteva fare qualcosa di più dal punto di vista della classifica. Noi abbiamo cercato anche di alzare un po' la nostra sticella in alcuni momenti, poi non ci è girato tanto bene, abbiamo commesso degli errori, è un campionato un po' particolare dove nessuno ci sta a perdere, lo dimostra oggi il classico, lo dimostra il pavia, lo dimostrano quelle squadre che sono lì dietro a lottare. Non lo so, qualche piccolo rimpianto ce l'abbiamo, ma adesso proviamo di prendere la salvezza, poi dopo parleremo di tutte le altre cose. Oggi dobbiamo pensare di essere pratici e andare a tirare fuori i punti perché fra la partita con il pavia e quella con il sesso Marconi vogliamo provare di chiudere la pratica.